Uno smartphone per quel mezzo miliardo di persone che desidera un terminale voluto ma non può permetterselo oppure non vuole ascendere a quei compromessi che attualmente caratterizzano uno smartphone accessibile o è nuovo ma con hardware datato oppure è un top di gamma di 2-3 anni prima. Il nuovo Motorola Moto G nasce per soddisfare le richieste di questi utenti che vogliono display grande, buona autonomia, buona esperienza di multitasking. Motorola risponde con un display HD 720p da 4,5 pollici, una batteria da 2070 mAh, una piattaforma Qualcomm Snapdragon 400 Quad Core a 1,2 GHz con 1 GB di RAM. Il tutto ha un prezzo di listino per la versione a 8 GB di 249 euro. In promozione al lancio prima di Natale a 199 euro. Dal vivo il terminale è reattivo e piacevole da utilizzare e ha le carte in regola per diventare uno dei più diffusi smartphone visto il prezzo accessibile. Solo la fotocamera da 5 megapixel sembra essere una scelta di compromesso, al primo utilizzo non ci è parsa di grande qualità. Per il resto il terminale offre una buona sensazione di qualità e inoltre nasce con cover intercambiabili anche in versione Flip Cover per dare al tutto un tocco di colore.